dell'11 luglio del 2011 all'inaugurazione del nostro santiero e come emozionato ero nell'agosto dell'anno scorso all'inaugurazione del santiero tra sati dell'Alto Adige. Capocordata è un termine che forse non merito del tutto perché la cordata era proprio la massima espressione di tutta la nostra sat e poi successivamente anche per la stesura della guida che abbiamo in mano e tanti amici che ho trovato lungo il percorso, è una gestazione lunga forse sì perché prima idea penso sia stata nel 95 ancora più di 15 anni fa e forse era un progetto che la SAT ha sempre tenuto in parte, ha sempre tenuto il cassetto e merito mio forse è stato quello di riuscire a convincere un po' tutto il consiglio perché qualcuno che remava contro c'era e forse c'è ancora tuttora insomma però voglio dire siamo arrivati e sono felice proprio della conclusione di questo percorso che ha visto il nostro consiglio prima di tutto il consiglio che ho presieduto e avere il coraggio e il coraggio anche il merito di aver iniziato questo percorso che oggi conosco.